Continua ad allargarsi il focolaio di Covid-19 nella geriatria dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sono infatti attualmente 11 positivi nel reparto, ovviamente già messo in quarantena. Si tratta di 9 pazienti, tutti trasferiti nell'adegenza Covid e due operatori sanitari. In questo momento il reparto di geriatria continua la sua quarantena. I pazienti vengono costantemente controllati con il tampone effettuato con una frequenza molto elevata. Stesso dicasi per gli operatori, questo è il motivo per il quale ogni giorno noi verifichiamo i risultati. Siamo ancora in attesa della verifica definitiva del sequenziamento dei tamponi del secondo e del terzo caso che abbiamo registrato dopo il primo che era chiaramente una variante brasiliana per verificare se anche gli altri appunto avevano contratto la variante brasiliana il che spiegherebbe la rapidità di contagio che per quanto sappiamo è più caratteristica delle varianti. Il primo caso risultato infatti una variante brasiliana risale allo scorso 26 febbraio. A risultare positivo era stato un paziente. Che all'ingresso in ospedale aveva ovviamente effettuato il tampone in pronto soccorso ed era negativo. Dopo tre giorni il tampone è stato effettuato di nuovo perché abbiamo ricevuto informazione che un suo contatto esterno dall'ospedale era positivo e quindi anche il tampone del paziente è risultato positivo, cosa che chiaramente può accadere. Un paziente può entrare con tampone negativo ma essere in una fase di incubazione o comunque in quella fase in cui la carica virale non è tale da rendere positivo il tampone e poi successivamente il tampone si è positivizzato. Come stanno i pazienti positivi? Sono in buone condizioni relativamente al quadro clinico legato alla positività. Poi è chiaro sono pazienti che erano comunque ricoverati in ospedale quindi c'era una motivazione per la quale erano in ospedale. Alcuni di questi in realtà potevano anche essere dimessi, quelli della geriatria che sono ancora in quarantena. Però noi per sicurezza li manteniamo in ospedale per garantirci comunque tutto il periodo di osservazione.